Siamo a una sfilata di moda di Mare da Mare a Firenze. Il trucco che abbiamo realizzato era un trucco beauty, molto semplice, in tema comunque alla sfilata che è di costumi da mare. Sarà sicuramente un'esperienza fantastica che ricorderò e mi darà modo comunque di entrare nell'ottica del lavoro a livello comunque più professionale, non solo in accademia. Ho deciso tra tante di scegliere questa scuola proprio perché dà la possibilità di crescere molto con dei professori che sono eccellenti e di aprire molte strade in vari settori di questo lavoro, quindi sia il settore cinematografico che il settore moda. I professori ci hanno insegnato tanto sia a livello formativo, professionale, ma anche a livello umano. Ciao a tutti, io sono Brenda González. Guardate questo capello e questo trucco bellissimo davvero, sono molto contenta. Un sguardo a pelo di Liliana Padua, assicché la ringrazio moltissimo per questo trucco. Eccoci qua, il dietro le quinte di una sfilata che fra poco inizierà. Io sono pronta e voglio ringraziare le ragazze dell'Accademia di Liliana Paduano che mi hanno reso ancora più bella, più luminosa. Oggi costo caldo, ci ci voleva proprio. Quindi grazie di cuore per tutta questa meraviglia. Un bacio. Ciao a tutti. cio Grazie a tutti.